Il loro insegnamento non è diverso, e qui arriviamo a un nodo fondamentale, non è diverso da quello che viene espresso nei testi sacri, soprattutto nel Vangelo, ma anche altri testi sacri di altre parti del mondo, di altre culture, di altre correnti spirituali, perché alla fine il messaggio è quello. Ma è posto su un piano differente, è posto sotto la luce della logica che ci abbiamo oltre, quindi tante parabole, tante cose, eccetera, sono spiegate. Quando Gesù Cristo ha detto, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, quando Gesù Cristo ha detto, verrà lo spirito di verità, perché voi adesso non siete ancora pronti, ho ancora molte cose da dirvi, ma voi non siete capaci di portarne il peso, ma verrà lo spirito di verità, che vi dirà la verità tutta intera, e lo spirito di verità si esprime anche attraverso questi personaggi. Anzi, addirittura dice una cosa incredibile che proprio fa pensare al contattista, perché dice lo spirito di verità, il paraclito, colui che verrà e vi dirà la verità tutta intera, non parlerà da se stesso, ma vi parlerà delle cose che avrà udito. Cioè, è il contattista, che non dice cose di sua spontanea. Eugenio Siragusa, quinta elementare del suo che poteva dire, minchia, cioè, che poteva dire del suo. Ma vi dirà quello che avrà udito. E lui udiva e parlava, e faceva tremare i potenti. Eugenio Siragusa faceva tremare le vene e i polsi ai potenti della Terra, perché i potenti della Terra facevano le riunioni segrete nei loro bunker, nei loro covi. Eugenio Siragusa andava sull'Etna, parlava con gli extraterrestri, e gli extraterrestri, guarda che hanno fatto una riunione lì, e si sono detti questo, questo e quest'altro. Lo devo divulgare? Sì. Bene. Scendeva, scriveva il messaggio con la macchina da scrivere, e i potenti della Terra si ritrovavano che c'era un dazziere di Catania con la licenza elementare, presa a Morzi e Bocconi, come si dice, che sapeva quello che si dicevano loro nelle loro riunioni segrete. Quindi Eugenio Siragusa faceva paura ai potenti, come oggi fa paura un certo Giorgio Bongiovanni. Non ti dico per i segni, perché i segni sono, sconvolgenti, ma per la sua missione sociale, per la sua opera sociale. Perché questi extraterrestri se ne fregano se noi crediamo, non crediamo, non gliene frega niente. Loro spingono sull'azione sociale, loro dicono voi vi siete sbagliati, avete fatto degli insegnamenti sociali, li avete trasformati in religioni, in credo. Io credo, io ce credo, io non ce credo. Gesù Cristo è stato, come altri grandi prima di Lui, no? È stato un civilizzatore innanzitutto, un ingegnere sociale. Questo Lui è stato innanzitutto. Ha fatto delle cose, ha dato degli insegnamenti per cambiare, per trasformare la società. Se tu leggi il Vangelo in questa ottica, e qui è importantissimo appunto il modo che ha Pier Giorgio di dire le cose, il modo in cui le rivela finalmente Giorgio Bongiovanni, come le ha rivelate finalmente Eugenio Siragusa, per capire quegli insegnamenti con la testa di oggi. Perché se no, eh, il pane, i pesci, le pecore, i pastori, la stella cometa, cioè, che cavolo? E' ovvio che ai ragazzi oggi non gliene frega niente di sta storia qua, perché pensano, ma sì, ma questo, boh, i nonni ci credevano. Ecco, i ragazzi pensano così. I nonni ci credevano perché era tradizione. Sì, vabbè, a Natale mangiamo se sto panettone, ma insomma, via, con sti regali sbrigatevi, perché... Ecco, così, ma non gli importa niente della figura, della sacralità del discorso, perché non la capiscono, perché c'hanno ragione. Perché io pure al mio amico sacerdote, a volte ne abbiamo parlato, no? E io ho detto, ma che per duemila anni avete impappocchiato tutta una storia. La gente alle favole non ci vuole più credere, non gli frega niente di credere alle favole. Anche perché poi vanno a guardare sotto al tappeto, ci avete gli scheletri, i teschi, le collusioni con le criminalità organizzate, i soldi sporchi di sangue della mafia, riciclati nella banca vaticana. Perché io devo credere alle tue favole, se oltretutto ti comporti anche male? Una percentuale di bambini che hanno subito abusi dai sacerdoti, cioè... Non si può dire indecente, perché è una cosa peggiore. Quella è la bestemmia contro lo Spirito Santo, di cui parlava Gesù Cristo, che ha detto, se bestemmerete me sarete perdonati, ma chi bestemmerà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Lo Spirito Santo è quello, la vita, i bambini, quello è lo Spirito, più dei bambini... No, non lo so, vabbè che oggi fanno anche i partiti politici al nord Europa, i partiti politici dei pedofili, quindi... Vabbè, insomma, i nostri insegnamenti, grazie a Dio, ci fanno capire che anche il male ha una funzione. È la funzione sempre evolutiva, perché il male esiste, perché noi possiamo fare la scelta, perché sono le due forze, il bene e il male, nei mondi, diciamo, fino alla quinta dimensione, sono due forze che servono per l'evoluzione. È il polo positivo e il polo negativo, e quindi è un binario che sospinge l'evoluzione. Questo fanno queste due forze, e quindi l'esistenza anche del male serve a questo. Come l'esistenza di personaggi positivi che combattono contro il male servono a far polarizzare le anime. È questa per la salvezza, cosiddetta salvezza delle anime, ma salvezza da che? Non c'è l'inferno eterno, però esistono delle pene che durano, volendo, se ti comporti molto male, anche 700 milioni di anni. E tu ci stai con la consapevolezza che sei stato un essere umano a vivere 700 milioni di anni, prima come un sasso, poi che riprendi coscienza solo quando arriva un bambino che ti dà un calcio, e ti in quell'attimo, ero un essere umano, ho fatto un mucchio dei cavolati, e poi fino al prossimo calcio, poi vegetale, e lì quante cavolate ho fatto nella vita mia da umano, mentre il bruco te se mangia. E poi, cioè, 700 milioni di anni. Eh, ragazzi, la seconda morte, no? Ne ha parlato Giovanni Evangelista della seconda morte, Eugenio Siragusa, guarda caso perché Giovanni Evangelista, Eugenio Siragusa, ovviamente Giorgio perché viene da quella scuola e perché è, rappresenta quella scuola, e ne ha parlato della seconda morte San Francesco, e basta, mi sa, forse qualcun altro, che, mio signore, che seconda morte non gli farà male, perché non dice che sorella morte non gli farà male, è sbagliata quella, l'originale dice che seconda morte non gli farà male, dice sora morte, prima, ma dopo, alla fine, è che seconda morte non gli farà male. Che è sta seconda morte? La seconda morte è che tu perdi lo spirito individuale, perdi l'identità individuale del io, che io esisto, io sono, io, cioè io adesso lo posso dire, io esisto. Eccomi. Perdi quello e rientri in uno spirito collettivo, animale, che per dire io devi essere un branco. Oh, mica è bello. Oppure di alberi, gli alberi. Esistono anche le famiglie di alberi. Voi sapete che gli alberi sono anche a famiglie? Le famiglie. Cade la ghianda dalla quercia, la ghianda va in terra. Prima che la ghianda diventi una quercia, che a sua volta può fare la fotosintesi clorofiliana, e quindi nutrirsi, eccetera. E prima deve crescere, deve diventare un metro, un metro e mezzo, prima di poter fare quella storia, di poter vivere come quercia. E chi la protegge? La protegge la sua famiglia. Cioè le querce che ha intorno, la proteggono come emanano delle sostanze che allontanano i parassiti, perché lei è piccola, ancora non lo sa fare. Ma se tu quella ghianda la metti da qui a 25 metri più lontano, nello stesso querceto, le stesse querce, ma 25 metri più là non le aiutano. Perché non è di quella famiglia, è di una famiglia. Sì, siamo uguali, siamo tutti querce, ma te sei di un'altra famiglia. Ma sono uguali, sono querce. Ecco, quelle sono le famiglie. Ma la famiglia delle querce è uno spirito individuale. Quindi quella quercia che aiuta a crescere la quercia più piccola è un io. Sono un io diviso in più elementi. Incredibile. Come gli animali, come fanno? Ma come fanno gli uccellini a non scontrarsi in aria tra di loro, quegli stormi che cambiano direzione all'improvviso? Ma come cavolo fanno? Tu pensa quanto so bravi. Non è che so bravi. Adesso tutti quanti al sinistra. Adesso tutti quanti. Non è che so telepatici. Sono uno. Sono uno spirito che è lo stormo. Lo stormo è un unico spirito. Quindi non è che deve coordinare tutti i movimenti. È uno che si muove. È uno solo che si muove. È talmente anche evidente. Ma nostra. Sono uno. Ciao. Grazie a tutti.